Loro per portare un vassoio di birre, guardate l'intelligenza del popolo cinese una apre, uno le sa agitare, uno le sa agitare, uno le sa agitare uno sa agitare il vassoio, l'altro le sa agitare e uno sa agitare guarda, ora si mette le carabine e te la metri c'è davanti di loro che appara uno guarda te vai dire che in un risanio italiano c'è un 3.000 cinesi ha affollato, ha pubblicamente affollato questa cosa e ridono sempre sono contenti di fare le figure di merda io non vorrei per loro fare brutta figura vado a maffagare un vado a maffagare un vado a maffagare un vado a maffagare yes so so